Musica E' Laura Marzesi, la neosegretaria generale Flai Cigielle di Ravenna. La sua nomina ha coinciso con l'avvio della campagna di disoccupazione agricola in un anno a dir poco complicato che principalmente ha colpito il settore dell'ortofrutta. E' una campagna che abbiamo inaugurato il primo dicembre con l'avvio del call center che in via straordinaria quest'anno, siccome sarà obbligatorio venire a fare la domanda presso i nostri uffici di patronato esclusivamente con l'appuntamento, abbiamo dedicato tre operatrici a rispondere alle telefonate per fissare gli appuntamenti. Ovviamente questo è stato preceduto dall'invio di giornalini informativi a casa di tutti i nostri lavoratori. Sono più di 4.000 i lavoratori interessati per quanto riguarda la nostra categoria e saremo presenti comunque su tutto il territorio provinciale, quindi su tutte le nostre camere del lavoro, a partire dall'11 gennaio per l'invio delle pratiche. Quali sono stati gli effetti del covid sul settore? Guardi, gli effetti del covid sul settore hanno, per quanto riguarda alcune aziende, diciamo che hanno lavorato di più. Vogliamo pensare ad alcune cooperative che hanno più filiere, sono impegnate su più filiere, per citarne qualcuna. Il settore delle carni, ad esempio, noi abbiamo qualche cooperativa che oltre ad occuparsi della parte cereali, agroforniture, abbiamo anche il settore delle carni. Devo dire che in quel settore lì i lavoratori hanno lavorato tantissimo e con controlli molto rigidi che già per tipologia di settore ci sono durante l'anno in assenza di questa pandemia. Quindi chiaramente queste aziende hanno aumentato comunque il controllo e la tenuta in sicurezza attraverso quello che poi ha chiesto il sindacato, che sono state le costituzioni dei comitati covid. Noi abbiamo lavorato tantissimo perché venissero formati all'interno delle aziende che seguiamo. Devo dire che c'è stata anche molta collaborazione ma siamo sempre attenti su questo argomento e siamo sempre in contatto con i nostri delegati perché come alcune aziende hanno sempre lavorato nel rispetto delle norme covid poi ci sono anche aziende che invece sono state maggiormente colpite perché la produzione che svolgono è legata poi a lavorazione dei bar, ristoranti, quindi le trasformazioni e le produzioni di queste aziende chiaramente hanno visto un calo, un calo che purtroppo si porteranno comunque dietro perché è un calo di fatturato che riguarda sia la situazione pandemica ma che riguarda anche la situazione di crisi del settore. Quali sono le prospettive per il settore? Devo dire che ad oggi noi abbiamo già incontrato importanti cooperative che non ci prospettano meravigliose prospettive in maniera particolare per i primi mesi del 2021. Quindi noi confidiamo sicuramente in un clima favorevole perché come sappiamo bene quest'anno è stato determinato oltre che un danno scaturito poi dalla crisi pandemica che ha colpito il paese anche da un danno climatico che ha subito il nostro settore. In maniera particolare un calo drastico della frutta, si pensi a pesche, susine, nettarine, è un calo drastico che chiaramente ha determinato un drammatico calo delle giornate lavorate. Noi abbiamo avuto, siccome nelle cooperative agricole firmiamo le convenzioni ogni anno per garantire a quei lavoratori la riassunzione l'anno successivo ma per garantire anche le fasce occupazionali. Persone che nel 2019 hanno lavorato in media 150-160 giornate, quest'anno faticano a raggiungere le 102 giornate per garantirsi il diritto alla disoccupazione agricola. Grazie per la visione!